Guerino Capitanio Per Di Giovanni senza creare grossi grattacapi alla porta difesa da Di Martino il mancino di Francia su calcio di punizione sull'esterno della rete quindi l'incursione di Pellone che spedisce fuori misura segmento centrale di prima frazione favorevole ai Pontaroli esce Gianmarino per infortunio Nico De Eugenio inserisce Nepa che nel secondo tempo sale in cattedra che è frustata di bizzarri colpo di testa deviato in calcio d'angolo da Di Martino Lo stop di petto di Ibrahima Ndiaye e mancino dell'attaccante che sfila ma nella ripresa è più angolana che Pontevomano calcio di rigore decretato per atterramento di Francia i danni di Ndiaye per Serani della sezione dell'Aquila e calcio di rigore molto contestato a dire il vero si presenta il numero 10 dal dischetto che spiazza Di Martino per il vantaggio giallo-blu Ndiaye che avrebbe anche l'occasione per il raddoppio immediato ma fallisce la sortita offensiva e poi reclama per un altro intervento falloso in aria stavolta penalty non accordato sempre lui incontenibile quando si aprono gli spazi ma che errore a tu per tu con Di Martino vittoria pesante per Nico De Eugenio Pontevomano che allo stadio Leonardo Petruzzi son combe di misura finisce 1-0 Allora con Nico De Eugenio complimenti per la vittoria anche se ci sono state diverse proteste per quel calcio di rigore ti chiedo la tua ovviamente Queste cose lascio giudicare agli altri non è che mi interessa più di tanto siamo contenti abbiamo fatto la partita che dovevamo fare esteticamente forse una delle più brutte però stiamo capendo come si vingono anche queste partite per un allenatore questo è importante Ero lontano non so se c'era rigore o no io ho visto che nelle ultime tre partite ci sono stati fischiati tre rigori contro e vi invito a rivederli Oggi Bizzarri è stato 90 minuti a rompere le palle all'arbitro non è stato nemmeno ammunito ha arbitrato la partita e questo non va bene e questo non va bene Ero lontano non è stato un'attività